Con questo schema arriva una boccata d'ossigeno per le casse comunali del Palazzo del Pincio che restano però malandate. I cittadini chiedono, arrivano nuovi soldi, le tasse potranno diminuire? Sulla tassazione va fatto un discorso un po' più ampio perché il Comune sta attraversando e continua ad attraversare delle situazioni difficili dovute ad una serie di debiti, anche se guardiamo tutto l'aspetto delle società partecipate, di organizzazione che è in essere, in itinere. Non ci dimentichiamo che in pancia, ai bilanci dei prossimi anni, ci sono gli interessi per i mutui e per i derivati che vanno a incrementarsi. Quindi bisogna valutare quali sono le risorse che si liberano coperte, tutti questi debiti del passato, la copertura dei mutui, dei derivati, se si riesce a trovare risorse per poter alleggerire il carico fiscale. Rimane quindi obiettivo di questa amministrazione trovare una modalità per poter abbassare il carico fiscale. Tutto questo però verificando quelle che sono ancora le esigenze, le situazioni che rimangono aperte è che dobbiamo chiudere inevitabilmente perché dobbiamo dare conto alla Corte dei Conti che sta monitorando gli equilibri di bilancio dell'ente e che si esprimerà valutando tutte queste azioni, tra cui anche l'attualizzazione di questo accordo con Enel.